Incredibile, 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 incredibile. Franco Agamè non è, Franco Agamè non è. Va a battere 2-1 Sebastian Baez e si lancia praticamente a questi quarti di finale ATP 250 in Croazia, Dumag, e ci regalerà un altro derby contro Marco Cecchinato. Ragazzi, questa dà una partita, io c'ho ancora le palpitazioni, c'ho veramente ancora le palpitazioni perché Franco Agamè non è, mi ha fatto emozionare, anche il pubblico mi ha fatto emozionare perché quando stava sotto, quando stava per perdere tutta la partita, il pubblico a un certo punto ha iniziato ad invocare il nome Franco, Franco, infatti lì ho detto wow, Agamè non è si carica, brecca, si riprende il servizio, brecca ancora e chiude. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video per il vostro XBriz. Ragazzi, Franco Agamè non è, devo dire, niente male oggi ma come l'altro giorno, come alle qualificazioni perché ha fatto un percorso fino adesso veramente incredibile battendo Laszlo GR 2-7-1. Oggi Sebastian Baez addirittura ha quotato a 6, quotato a 6 Agamè non è, con una partita incredibile. Ora, ora, io metto sempre le mani avanti col tennis, è vero, Sebastian Baez ha fatto degli errori che comunque, se andiamo a vedere, sono dovuti anche alla bravura di Agamè non è, non è che Agamè non è buttava le palline di là. Io ho certi video perché ovviamente qualche video lo faccio anche di qualche passante bello quando mi capita, Agamè non è affatto un passante in corsa che, devo dire, spostatevi tutti. Ha giocato dei dritti, belli carichi in cui Baez non ha potuto fare niente. Ora, è vero che è un top 100 e passa, adesso non ricordo male, 29 anni, gioca molti Challenger, in maniera ATP diciamo non è che lo abbiamo visto spesso, soprattutto io non l'ho mai visto spesso, Agamè non è, ecco, lo vedo molto spesso nei Challenger, però ok, ma... Baez, non lo so, Sebastian, che cosa ti è successo? Dopo che ha perso la finale con Serundolo a Bistad, no vabbè, a parte i sersi, ora, la batosta della finale persa contro Serundolo, da favorito, magari può influire, ok, mentalmente. Ovviamente poi questa è la prima partita che ha giocato Baez, anche perché c'è avuto un bye, e se non erro, era la prima partita di questo torneo. Ora, non vorrei dire cazzate, perché magari qualche stronzata esce fuori, però dovrebbe essere la prima partita per Baez, sì, 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 perché ha avuto il bye, quindi sì, non ha... non ha giocato partite prima di questa, quindi diciamo è stato... Dio, secondo me è anche meglio, eh, posso dire? Secondo me è anche meglio, perché magari perdeva prima con un altro tenista, almeno per seconda Camenone, siamo più felici, no, a parte i scherzi, a parte ha perso anche con Karinovic ad Hamburgo, vabbè, ma quella è un'altra storia. Comunque diciamo che Baez non è al 100% in un periodo di forma, ok, e da lì ci siamo. Il primo set di Francona Camenone finisce 6-3 per Sebastian Baez. Il tennista argentino brecca per primo a Camenone, poi Camenone riesce a riprendersi il break, io però già da lì, no, ok, ti fai breccare e poi game successivo riesce a riprenderti il break. Quindi vuol dire che c'è la possibilità di ribreccare Baez, non è così impossibile. E lì la campanella, no, si accende, vabbè, si fa ribreccare a Camenone, finisce a sedere il primo set e ok. Io comunque ragazzi, già dal primo set avevo detto, vabbè, ragazzi, bella Nama a casa, comunque ha fatto un percorso bellissimo, può anche chiudere così, no, questo mag. Invece no, perché il secondo set la chiude 6-1 a Camenone, regala un solo game a Baez. E comunque a Camenone ha, diciamo, messo a disposizione molte palle break che Baez poteva effettivamente concretizzare. Non le ha concretizzate, io sono più felice di questa cosa, anche perché comunque a Camenone se le ha giocate bene quelle palle break, qualche ruoretto di Baez, 6-1 ci sta. Ok, terzo set, terzo set è sempre il più ostico, ovviamente il favorito, il terzo set, è quello che, diciamo, sì, se lo va a prendere, magari con c'è un set, il terzo te lo va a prendere, e invece no, perché? Baez è vero che brecca Camenone nel momento sbagliatissimo, perché era nel momento in cui breccandolo andavi a servire per chiudere, ok? E quindi lì dici, ok, vabbè, pazienza, ma quando Baez è andato a servire, ogni punto che faceva Camenone risposta, il pubblico, era tutto per Francone, era tutto per Franca Camenone, e da lì Camenone si carica, va a prendersi il break, va a riservire per rimettere in parità la situazione, serve alla grandissima, e al turno successivo lo brecca ancora, Camenone brecca Sebastian Baez, che ormai l'ho visto veramente in balia della situazione, non riusciva più a che pesci prende, perché stava sopra 30-15, dal 30-15, 40-30, ok, si chiudila, no, vantaggi, e poi Camenone ha fatto quello che ha fatto, poi ragazzi, il turno successivo, per andare a chiudere, quindi 7-5 Camenone, ci sono stati molti rischi, che comunque l'italiano si è preso, soprattutto c'è stato il doppio fallo, qui su 15 pari, doppio fallo 15-30, però molti dicono doppio fallo chiama doppio fallo, Camenone doppio fallo ha chiamato l'Ace, un solo Ace ha fatto in quel momento preciso, perfetto, poi ha fatto un passante della Madonna in corsa di dritto, e l'ultimo punto è stato, non so, avranno scambiato 500, avranno fatto 500 scambi, e alla fine quello che è andato a cedere è stato proprio Sebastian Baez, quindi ragazzi, domani, derby, cecchinato, no, non so se è domani o dopodomani, non vorrei di cazzare, perché domani si gioca Sinner, gioca Zeppieri, no, dovrebbe giocare anche cecchinato contro Agamemone, dovrebbe giocare anche loro i quarti, se non dico cavolate, oppure il giorno dopo, o qui dopo domani. Vabbè, detto questo, vi do un bacione, e ci vediamo in un prossimo video, dagli ai Francone, che la Croazia è nostra, bella a tutti.